Stupendo e suggestivo è il territorio di Caprarica, ancor di più se lo si ammira dall'alto della serra. Si tratta di un declivio, una lieve ondulazione del terreno, considerata una propaggine delle murge salentine e posizionata a circa 110 metri dal livello del mare. Essa si innalza da Caprarica a Galugnano, per poi scendere quasi ad accarezzare dolcemente i paesi limitrofi. Le serre, così comunemente conosciute, sono anche luogo di sport e di relax. Oggi la serra è diventata un luogo prediletto di varie iniziative e attività culturali. Un'area picnic, attrezzata con panchine, giochi per bambini e attrezzature per il fitness, rendono questo posto l'ideale per passare una giornata immersi nel verde e nella natura più incontaminata. Grazie per la visione! Grazie a tutti